Innanzitutto inserito in un contesto provinciale perché qualche considerazione di carattere un po' più generale sulla nostra provincia e sulla nostra regione è doverosa. Sono passate due settimane, 15 giorni dall'altro incontro e nel frattempo c'è un susseguirsi di prese di posizione, di documenti, di iniziative, di sedicenti comitati, di partiti, di maggioranze, di opposizione più o meno sveglie lucide tutte con la verità in tasca. E questa è la prima dimostrazione del principio a cui avevo fatto riferimento, cioè questa città e devo dire anche questa provincia è priva di una solida e di un'autorevole guida politica ed amministrativa. All'interno di questo contesto così frastegliato, così frantumato è evidente che ci sono forze centrifughe che non riescono a trovare un percorso ed un cammino ben preciso. Innanzitutto io finora avevo scelto una linea in sintonia con quello che deve essere il principio ispiratore durante una fase così difficile, così preoccupante per tutti i cittadini, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico. Cioè lasciare le polemiche da parte e cercare di lavorare in una direzione univoca per raggiungere traguardi ed obiettivi necessari e indispensabili. Però a questo punto non posso esimermi anche dal fare alcune considerazioni sui numeri che ci stanno caratterizzando e che devo dire o vengono omessi o vengono nascosti oppure vengono comunicati con dei piccoli trucchetti che forse sono mutuati da quelli a livello nazionale perché se dal numero dei contagiati comunichi sottraendo quelli che sono guariti o dimessi o presunti guariti è chiaro che la comunicazione viene alterata perché devi comunicare una cosa e l'altra. E quindi diciamo però questo dice lunga anche sul modo di approcciarsi ai cittadini. Allora guardate i numeri non mentono purtroppo come sempre questa provincia è una provincia che ha un tasso di contagio il rapporto tra numero di abitanti e contagiati il più alto è il secondo della Puglia perché ha un tasso di contagio di 12 e decimali solo Foggia ma penso che in questi ultimi due o tre giorni probabilmente abbiamo raggiunto anche Foggia perché aveva 13 per cui bisogna fare anche qualche considerazione Io non voglio addebitare colpe a nessuno, colpa della RSA di Brindisi dove c'era un numero di contagiati notevole ma già prima dei contagiati del Focolare di Brindisi c'era in questa provincia un numero alto. All'interno di questa provincia il numero più alto di contagiati è quello che riguarda proprio il territorio di Ostuni e Carovigno. Io ho una mia idea probabilmente accomunati anche da una comunanza di uffici, di servizi, di luoghi anche di socializzazione e quindi è un dato di fatto ma bisogna che i cittadini sappiano Cioè l'indice del territorio Ostuni e Carovigno se quello della provincia di Brindisi è 12, quello della regione Puglia è 9, 10 Quello del territorio Ostuni e Carovigno è 20, 25 Spiego perché se hai su 30.000 abitanti oltre 70 contagiati non c'è bisogno Anche la scuola elementare riescono a fare quant'è per 10.000? Più di 20, 22, 25 ecc. Ci deve essere una ragione su questo, ci deve essere una ragione e quindi bisognerebbe fare un minimo di autocritica E cercare di assumere anche iniziative finalizzate a contenere Io mi auguro che questa fase sia passata e che si vada verso una stagione di maggiore tranquillità E soprattutto non ci sia un rigurgito ed un ritorno come già molti epidemiologi e scienziati paventano nella fase autunnale A questo va anche aggiunto, e questo pure bisogna dirlo con molta tranquillità e serenità Che nel contesto regionale, mentre la regione Puglia occupa il posto che merita sia per quanto riguarda il numero di contagiati Che nel rapporto tra contagiati e popolazione, quindi siamo sempre tra il decimo e l'undicesimo posto tra le regioni italiane Questo non accade per quanto riguarda il numero dei tamponi fatti Perché in questa gravatoria la regione Puglia occupa il terzo ultimo o il quarto ultimo posto Nella nostra precedente chiacchierata io avevo detto che la regione Puglia doveva fare, tenuto conto della popolazione e della media nazionale dei tamponi Almeno 3.000-3.500 tamponi al giorno Tenuto conto che in Italia ormai se ne fanno 60.000-65.000 al giorno La Puglia rappresenta il 6-7% della popolazione italiana e quindi dovrebbe fare 3.500 tamponi Ne facciamo, il nostro record è stato 2.100, oggi 1.500, l'altro già 1.200 Quindi anche su questo non lo so quali sono le disposizioni e le linee guida che hanno dato in questa direzione Qui c'è un deficit per avere il controllo della situazione A partire dalle strutture sanitarie, passando per le RSA, per gli uffici pubblici In modo tale da avere un controllo dei movimenti, delle situazioni di maggiore difficoltà e pericolo del contagio Però vedo che il numero dei tamponi giornalieri che si fanno è molto alleatorio E comunque massimo è arrivato due volte, mi pare, a 2.000 Ha superato due volte i 2.000 tamponi Quindi questo è un altro dato che avevo già segnalato e non a caso L'altro giorno ho visto, ho studiato che nel numero dei tamponi rispetto alla popolazione Siamo o terzo ultimi o quarto ultimi Quindi questo fatto non ci fa onore Veniamo alla situazione un po' più locale Guardate, la provincia, io ho ascoltato, ho riascoltato, prima di fare quest'altro incontro Il consiglio comunale che è stato fatto ad Ustuni nel mese di dicembre scorso Quindi sono passati quattro mesi con la presenza del direttore generale Faccio una premessa doverosa in questo contesto Non ho io pregiudizi carattere personale nei confronti di nessuno Così come non ho nemmeno forme di sudditanza politica o psicologica nei confronti di nessuno O si chiamino Pasqualone o si chiamino Michele Emiliano Io non ho peli sulla lingua e non ho come si dice riserve per esprimere liberamente le mie opinioni Il direttore generale della ASL in occasione dell'incontro del Consiglio comunale ha detto chiaramente di avere investito notevoli somme sulla medicina territoriale E che il futuro è la medicina territoriale Ora io penso che sicuramente nelle intenzioni del direttore generale la medicina territoriale, la prevenzione sarà il futuro Ma sicuramente non è il presente e non è stato il presente Perché guardate uno dei deficit maggiori che si sono avuti Non solo nella provincia di Brindisi o in Puglia per carità È un ragionamento molto diffuso È stata proprio la difficoltà di un approccio tra il paziente o chi aveva dei sintomi E una struttura in grado di poterlo seguire, dialogare Prima che arrivasse ad una situazione di gravità della patologia E che lo costringesse ad un ricovero magari peggio direttamente in rianimazione Quindi se c'è una cosa che è fallita in Italia e anche dalle nostre parti È proprio questo tipo di lavoro organizzato Di una medicina territoriale in grado di poter seguire l'ammalato Di poter fare, adesso si sta cominciando Non so se nella nostra provincia, non mi pare Funzionino le USCA, le cosiddette unità Che mettono insieme medici e altre strutture di carattere sanitario Per poter seguire insieme ai medici di base Gli ammalati che hanno sintomi, che hanno anche altre malattie Perché non è che la presenza del covid ha cancellato dal vocabolario medico italiano Le altre patologie Questo non ha funzionato E l'altra cosa che mi preme porre in evidenza È questo deficit di comunicazione O di comunicazione alterata o false O non veritiere nei tempi e nelle modalità Che caratterizza l'ASL Domani forse si apre la terapia intensiva di Brindisi Si sta aprendo, non so dove aprirsi ai primi di marzo Poi metà marzo, poi la fine, poi il 10 di aprile Domani si aprirà Speriamo che ciò avvenga E anche su questo adesso devo ritornare Sulle considerazioni che avevo già fatto Perché si stanno dimostrando piano piano La gente, gli addetti ai lavori anche Sta prendendo atto di alcune cose La terapia intensiva domani si apre Può darsi che si va, si taglia il naso Si fa la passeggiata Non mi risulta Non mi risulta Che ci siano Nei medici Nei medici E nelle attrezzature Necessarie e indispensabili Per poterla utilizzare Per fortuna Non serve adesso Perché come avevo già detto 15 giorni fa Ci sono solo 42 ricoverati Covid a Brindisi E 4 in terapia intensiva Quindi non servono Però Quella terapia intensiva Quella rianimazione Serve Caro dottor Pasqualone Carissimi rappresentanti Della politica Della provincia di Brindisi Nessuno escluso Nessuno escluso Carissimo presidente Emiliano Servono per la nostra provincia Perché è scandaloso Vergognoso Ed illegale Che nella provincia di Brindisi Ci fossero E ci sono ancora Fino ad oggi Solo 8 posti Di rianimazione 8 posti A fronte Di 400.000 Abitanti Sapete la discussione che c'è Fra le regioni Che hanno dimostrato anche Di avere grossi problemi Al di là Dell'immaginario collettivo Di un grande sistema sanitario Come la Lombardia La Lombardia Ha comunque 8,5 posti letto Per ogni 100.000 Abitanti L'Emilia Romagna Ce ne ha 10 La provincia di Brindisi Invece Ce ne ha 8 per 400.000 Che cosa sono? Significa che ce ne abbiamo 2 Per ogni 100.000 Abitanti Quindi Gli altri 28 posti Che stanno Avviando A soluzione Devono rimanere Stabili Perché Nella provincia di Brindisi Servono almeno 30-35 posti Di Rianimazione Perché servono Perché se succede Un incidente Se c'è un infarto Un ictus Qualunque tipo di malattia Oltre al covid E sono previsti Infatti Dalle norme Dal decreto 70 E da quelle che hanno Approvato anche ora Per Nello specifico Per il covid Così come vi avevo Già detto 15 giorni fa Che i posti di Pneumologia Potevano essere Aumentati Dal 100% Quindi Diciamo Se la pneumologia Di Ostuni Da 10 Sottodimensionati Perché dovevano essere 20 Come da piano Regionale Approvato Potevano diventare 40 20 100% 40 Quindi Il fatto Caro direttore generale Devo dare atto Che questo è stato L'unico impegno Che lei Ha mantenuto E cioè Di completare I lavori Che dovevano essere Fatti Tre anni fa Quindi con solo Tre anni di ritardo Per poter dare Gli altri dieci posti Di pneumologia All'ospedale Di Ostuni Ma Dobbiamo adesso Ritornare E appuntare La nostra attenzione Sulle questioni Più specifiche Che ci riguardano Premesso Che Nessuno Finora Aveva speso Una parola Per Per l'ospedale Di Ostuni Con interventi Veri Reali E non l'ho detto Io Non l'ho detto Io L'ha detto Il dottor Pasqualone Nel dicembre scorso In consiglio comunale Ha detto All'inizio Del suo intervento E dalla fine Quindi Con una sorta Proprio Di ripetizione Per ribadire Il concetto Di essere Stato Lasciato solo Dalla politica Perché Alcune cose Come La piastra Di ampliamento Dell'ospedale Di Ostuni Per risolverle C'è bisogno Del sostegno Dell'appoggio E Della unità Di intenti Della rappresentanza Politica Quindi Io Ho preso atto E lo ribadisco Che fino a questo momento Né Amanti Né Vizzino Né Pino Romano Né Bozzetti Si sono mai Interessati Per trovare I soldi I finanziamenti Per completare La struttura Di Ostuni Che Era Ed è indispensabile E anche questo Non lo dice Domenico Tanzarella Perché è ostunese E perché Come Qualcuno fa Deve guadagnare Qualche consenso In questo O quell'altro Contesto Non è assolutamente Così Perché Ancora una volta Utilizzo le parole Del dottor Pasqualone Lui si è fatto La domanda E si è dato Una risposta Per quanto Gli riguarda Quindi evidentemente Devo dedurre Che sono Altrove Gli ostacoli Per completare Quella struttura Ha chiesto È opportuno Completare Quell'opera E si è risposto Ha detto di sì Secondo me Sì Bisogna Completarla Ma bisogna Completarla Per tante Regioni Ha fatto anche Alcuni passaggi Nel dicembre scorso Illuminanti Per quello Che io ho detto Più volte E purtroppo Ha detto Lì qualcuno Non aveva Sottovalutato Poi si è trovato Di fronte A questa piastra Per la quale Erano stati spesi Dei soldi E poi Ce ne vogliono Altri per completarla Che cosa vuol dire Che nel disegno Strategico Cui avevano Interesse Altri Non era prevista Il completamento Di quella piastra Anzi Probabilmente Non doveva Nemmeno iniziare I lavori E devo dire Che per fortuna Grazie al sottoscritto E a chi Era direttore Generale Della ASL 15 anni fa Quei lavori Furono approvati I soldi Che erano disponibili Utilizzati E si avviarono Ma perché Indispensabile Completare Quella piastra Guardate Se noi Avessimo avuto Quella piastra Oggi L'ho già detto In parte Adesso ribadisco Con maggiore dettaglio Non avremmo Avuto bisogno Di spendere Altri soldi Per fare Un nuovo Pronto soccorso Non avremmo Avuto bisogno Di spendere Altri soldi O di attendere Ancora Di sistemare Il laboratorio Analisi Che sarebbe Stato utilissimo In questa fase Avremmo avuto La possibilità Di avere 40 posti Di pneumologia Autonomi Indipendenti In Una parte In una ala Diciamo In un piano Intero Di quella Piastra In costruzione E avremmo Avuto la possibilità Di avere Un pronto soccorso Con ingresso Autonomo Indipendente Dall'altra parte Per un Ragionamento Di Urgenza E Emergenza Che è Necessario Ed indispensabile Ecco perché Il dottore Pasqualone È d'accordo Con me Però Non si può Dire Che Dobbiamo trovare I soldi Cioè Dopo 15 anni Io ho fatto Delle domande Sia da questa Emittente Sia nei luoghi Deputati Ad ascoltare E a far esprimere Le rappresentanze Istituzionali Non ho ricevuto Risposte Concrete Ora Io vorrei Prendo atto E ringrazio L'amico Fabiano Amati Che è venuto A Ustuni Con il suo Compaesano Ingegnere Ammirabile Per Interessarsi Dei Lavoretti Che devono Essere Fatti E adesso Entreremo Nel merito Anche di questi Alla chirurgia E alla Ortopedia Sono convinto Che adesso Nella sua veste Di direttore Dei lavori Che fa Su tutti i lavori Di cui si interessa Il consigliere Amati Seguirà Ci informerà E ci dirà Come stanno Le cose Però Voglio ritornare Un attimo Indietro Il dottor Pasqualone In sede Di consiglio Comunale Ci riferì Della Esistenza Ho messo a punto Non lo sappiamo Perché Io Non l'ho vista Non penso Il consiglio Comunale Di Ostuni Nessuno Avrà vista Di uno Studio Di fattibilità Ma non Quello A cui mi riferisco Io Quello A cui mi sono riferito Più volte Io È uno studio Di fattibilità Fatto Per fare L'ospedale Di Monopoli Qui invece È uno studio Di fattibilità Che il dottor Pasqualone Ha detto Di avere chiesto E di aver fatto fare Al direttore Dell'area tecnica Di Brindisi Ingegnere Ammirabile Che ha redatto Questo studio Dicendo che Ci vogliono 9 milioni Di euro Per completare La piastra Ora Per carità Io Non voglio Mettere in dubbio Nella competenza Nella professionalità Nell'attendibilità Di tale studio Però Sarebbe opportuno Forse Devo dire Al dottore Pasqualone Senza aspettare Che Quella politica A cui lui Si riferisce Magari Io lo dica Di farlo E mettere a disposizione Di far conoscere Alla stampa Al consiglio comunale Di Ostuni Al sindaco Innanzitutto Questo studio Di fattibilità Per condividerlo Concontarlo Per vedere Quali sono Gli obiettivi Che cosa dovrebbe Andare In quella Piastra Che cosa Bisognerebbe Fare Per completarla Qual è La strategia E l'obiettivo Migliore Per realizzare Il sogno Il sogno Mio E del dottore Pasqualone Perché anche lui Ma vuole finire No? Le associazioni Il forum La città Tutti quanti Ma Un altro aspetto Che viene sempre Sottovalutato E che si sta Dimostrando E quale E quale Maggiore evidenza Né a Brindisi E un anziano Degli strumenti Che io ho Oggi Dei posti letto Che ho Dei servizi Che sono utilizzabili O sulla scorta Di quello Che accadrà Tra cinque anni E tre dieci anni La mia domanda Non era una domanda Retorica O stupida La mia domanda Serviva a dire Questo E la risposta È stata un po' Come si dice Aleatoria Un po' strana Oggi Noi qui Non abbiamo Nessun ospedale In grado Di dare una risposta Alla domanda Che riguarda Forse Centocinquantamila Utenti Di un territorio Abbastanza vasto Anzi A questo Bisogna aggiungere Si è allargato Il territorio Perché io Immaginavo prima Che secondo Il piano Regionale Francavilla Avesse i posti Di rianimazione Funzionanti E invece Nemmeno Francavilla Ce l'ha Non solo Ma guardate La contraddizione Delle persone No Il dottore Pasqualona A dicembre Ha detto In consiglio comunale Candidamente Candidamente Perché è un dato Di fatto Che il reparto Di ortopedia Di Ostuni Funzionava E funzionava Bene I numeri Del reparto Di ortopedia Di Ostuni Erano E sono Migliori Di quello Per cui Mi chiedo Dottore Pasqualona Dottore Giglio Bianco Ma per quale ragione Voi avete chiuso Il reparto Di chirurgia Di ortopedia Di Ostuni Ma veramente Voi potete raccontare La barzelletta Che avete chiuso Per il restyling Per il restyling Made in Italy Stile Made in Italy Che cos'è questa cosa qua E in piena emergenza In questa situazione Poi tra l'altro Vi ricordo Semplicemente Che Il 23 di marzo Arriva Una specie Di ordine di servizio Di tre righi Tre righi Firmate Da un'altra figura Perché Come si dice C'è bisogno di figura Né del direttore sanitario Né del direttore generale Ma afferma Del coordinatore Dei presidi Ospedalieri E cioè Il dottor Montanile Il quale dispone Tre righi Senza una motivazione E atti amministrativi Seppure abbastanza problematici Come una nota O una lettera Abbastanza problematici Comunque devono avere Una motivazione E un atto privo di motivazione E il legittimo Già in Reips Si dispone L'accorpamento Della chirurgia E dell'ortopedia Questa operazione Il giorno dopo Due giorni dopo Esce un comunicato Sulla stampa Non lo so Fino a che punto Attendibile Che questa iniziativa Fosse il frutto Di creare i posti Nell'ospedale di Ostuni Per il Covid Altra cosa Fantomatica Un Covid Che all'ospedale di Ostuni È nato È cresciuto È vissuto Ed è morto Prima Di prendere Come si dice Di avere Il diritto Il certificato Di nascita Quindi comunicato Si riproni a creare I posti No Si apriva un'altra cosa Comunicato Stampa È del 23 Di marzo Dopodiché Non succede Niente Non succede Salvo L'accorpamento Si dà Corso Perché Poi vedremo L'ospedale di Ostuni Dovrebbe Per il piano Sanitario regionale Avere Mi pare 105 posti Letto Funzionanti Non lo so Quanti ce ne sono Chiedo Al dottore Pasqualone Quanti posti Letto Funzionanti Ci sono Nel nostro Ospedale Forse Non arrivano Le cinquantina Siamo Vicini Bene Allora Si accorpano I due Reparti E sì Perché Chirurgia Ortopedia 8 per 1 Erano diventati 16 E 10 Della pneumologia 26 E La medicina 20 24 46 Intorno Ai 50 60 105 Dovrebbero essere Ospedali di base Rinforzato Rinforzato Bene Che cosa succede Parte l'accorpamento Dura 8 giorni 8 giorni Il 2 di aprile Viene emesso Un ordine Servizio Comunicato Disposizione Nota Non c'è Una Determina Una delibera Un atto amministrativo C'è Questa nota Affirma Del dottore Pasqualone E del dottor Giglio Bianco Direttore Sanitario E direttore Generale Dell'AS Nella quale Si dice che Per l'emergenza Covid Quindi per nessun Restyling Per nessun Lavoro Per l'emergenza Covid Si sospendono I ricoveri Nei reparti Di chirurgia E ortopedia Il personale Medico Di ortopedia Viene Chirurgico Viene Spostato A Francavilla Fontana Gli anestesisti Possono andare Anche a Brindisi E il personale Pure può essere Utilizzato Infermieristico Da Francavilla O da Brindisi Quindi Motivi Emergenza Covid Allora Quel provvedimento Non sta in piedi Non per carenza Di motivazione Ma per Inesistenza Della motivazione Peggio Perché Emergenza Covid Con l'ospedale Di Ostuni Non c'entra Assolutamente Niente Dal giorno 2 Di aprile Sono passati Solo 20 giorni I medici Gli ortopedici Sono ancora Nell'ospedale Di Ostuni Lavori Non sono assolutamente Iniziati Da nessuna parte Tranne quelli Che stanno Completando Nella Pneumologia E Non si capisce La ragione Allora La ragione Di questa Chiusura Qual è L'emergenza Covid Trovare i posti Per trasferire Covid No Perché non sta scritto In nessun atto Né dell'AS Né della regione Puglia Né da nessuna parte Sono Quelli del Restyling E nemmeno questa cosa Sta scritto In nessuna parte E un Restyling Si fa In questa fase In questo Momento E tra l'altro Nonostante La partecipazione Emotiva Fisica E collegiale Nella Passeggiata Ieri Nel nostro Ospedale Non si comprende Per quale ragione Ammesso Che fossero Così Urgenti Ma Non Lo sono Ammesso Che fossero Così Urgenti Perché Non si potessero Fare Gli interventi E lavori Prima in un reparto Accorpando Le altri due Nell'altro E dopo Invertendolo Come era Stato fatto E disposto In quegli Otto giorni Ora Io Devo Immaginare E devo Sempre Pensare Male Perché Sono Suffragato In questo Cattivo Pensiero Da quello Che è Accaduto In tutti Questi anni O non Accaduto Per omissioni O per Ignavia Questa è la verità C'è il reparto Di ortopedia Che lavorava Bene E aveva Numeri Addirittura Migliori Di quelli Di Francaville Perché Deve Essere Doveva Essere Chiuso E non Poteva Continuare A lavorare Insieme Alla Chirurgia Accorpato Se si Dovessero Fare Questi Lavori O Come Stava Prima Perché Caro Dottore Pasqualone Lei Deve Dare Delle Risposte A queste Domande Non Le Deve A me Consigliere Comunale Candidato Sindaco Che ha Preso Più Voti In Questa Città Che Si è Sempre Interessato Quando Ha Svolto Ruoli Di Responsabilità Amministrativa Quando Ho Fatto Il Presidente Della Provincia Io Cari Consiglieri Regionali Non Mi Sono Interessato Solamente Dei Problemini Problemoni Di Ostuni Ma Sono Andato In Giro Nella Provincia Su Tutte Le Strade Su Tutti I Ponti Che Erano In Costruzione Per Sollecitarli Ho Cercao Di Trovare Le Somme Per Poter Completare Le Opere Pubbliche E Portarli Avanti Mettendo A posto Il Bilancio Provinciale Ora Fate In Mudo Di Porre Fine A Questa Vicenda Vergognosa Che Riguarda La Nostra Città E Riguarda Un Pezzo Significativo Importante Della Sanità Della Provincia Di Brindisi Guardi Dottore Pasqualone Lì Ha Detto Sempre Nel Dicembre Del 2019 In Consiglio Comunale Davanti Alle Telecamere A Tutti I Consiglieri Comunali Alle Associazioni Al Formo Delle Associazioni Ai Cittadini Che Aveva Già Bandito Un Avviso Pubblico Per Reperire I Cardiologi Dando Atto Che Due Cirenei Stanno Facendo Sacrifici Immensi Per Poter Tenere In Piedi Questo Servizio Un Servizio Non Un Reparto Ma Indispensabile In Un Ospedale Seppure Di Base Che Ha Reparti Operatori Che Ha Un Pronto Soccorso Che Funziona Che Non È Un PPTA Ma È Un Pronto Soccorso Bene Aveva Detto Che Era Stato La Regione L'aveva Tenuto Bloccato Per Un Anno Perché Sosteneva Che La Provincia L'Asia Brindisi Avesse Già Troppi Cardiologi In In La Regione Aveva Ragione Che Era Dottore Pasqualone Perché Lei Sa Benissimo Il Numero Notevole Di Cardiologi Che Prima Facevano Attività Ospedaliera E Che Sono Stati Spostati Facendo Un Lavoro Di Solo Ambulatorio In Una Situazione Di Grande Difficoltà Di Emergenza Che Forse Non Avrebbe Consentito Questo Vero Dottore Pasqualone Lei Questa Cosa La Sa Benissimo E La Conosce E Bene Ma Superiamola Dopodiché L'avviso È Stato Sbloccato È Stata Fatta La Gradatoria E Sono Stati Anche Presi Due Cardiologi Ma Sono Stati Dirottati Verso Necessità Esigenze Maggiori O Verso Strutture Che Magari Hanno Come Al Solito Più Udienza Di Quella Di Ostuni E Bene E Ora Di Smettere Di Finirla Con Questa Cosa Se Non Sarà Riaperto Se Non Saranno Riaperti I reparti Di Chirurgia Di Ortopedia Il Sindaco Dovrebbe Fare Impugnare Altar Quelle Specie Di Provvedimenti Che Sono Stati Fatti Che Non Hanno Alcuna Legittimità E Se Non Lo Farà Il Sindaco Lo Faranno I Cittadini Lo Faranno I Consiglieri Comunali Un Comitato Lo Farà Chiunque Avrà Il Diritto Soggettivo Di Farlo Per Riaffermare Il Diritto E La Verità E Soprattutto Per Ridare Dignità Ad Una Popolazione Ad Una Comunità Che Sta Veramente Prendendo Schiaffi E Sta Mettendo Sotto I piedi La Sua Dignità Per La Vostra Ignavia E Io Spero Che Lei Non Venga Ulteriormente Lasciato Solo Sono Convinto Che A partire Da Domani Mattina Ma Già Da Ieri Come Abbiamo Visto I Consiglieri Regionali Di Questa Provincia Amati Romano Vizzino Bozzetti Metteranno Al Servizio Della Provincia E Quindi Di Una Struttura Facente Parte Del Piano Sanitario Regionale Per Ridare Alla Stessa Quello Che Le Compete Il Laboratorio Analisi I 20 Posti Di Pneumologia I 20 O 30 Posti Di Lungodegenza Dottore Pasqualone Ho Fatto La Battuta In Consiglio Comunale Che Io Apprezzato Per L'ironia Che Ha Avuto Quando Le Abbiamo Chiesto E La Lungodegenza Che Spetta A Ostuni E Che Sta Parcheggiata Provvisoriamente A San Pietro Vernodio E Quella Ci Vuole La Piastra Non A Caso Si Chiama Lungodegenza Ora Io Apprezzo L'ironia E Lo Spirito Perché Soprattutto L'auto Ironia Che Il Sale Della Vita E Dei Rapporti Umani Perché Se Uno Si Prende Sempre Sul Serio Finisce Anche Per Non Essere Credibile Però Di Questa Ironia I Cittadini Ostunesi Penso Che Non Abbiano Più Bisogno O Ne Possono Fare A Meno Noi Noi Vogliamo Avere Quello Che Ci Spetta Poi Per La Questione Se Sarà Possibile In Futuro Con Emiliano O Con Chi Governerà La Regione Puglia Di Ridare Organizzazione E Dignità Anche Dal Punto Di Vista Sanitario Migliore Di Quella Che C'è Per Dare Ostuni Quello Che È Stato Dato Ad Altri E A Noi Invece Tolto Lo Vedremo Ma Per Il Momento Noi Vogliamo Tutti I Posti Letto E Di Servizi Che Sono Previsti Nel Piano Sanitario Regionale E Vogliamo Che Questo Accada Anche Per Tutta La Provincia Di Brindisi E Per Tutta La Sanità Perché Dottore Pasqualone Lei Sa Benissimo Che Non Solo La Provincia Di Brindisi Ha 2,7 Posti Letto Per Ogni Mille Abitanti A Fronte Di 4,4 2,3 8 Di Altre Provincie Ma Di Quei 2,7 Non Esistono Nemmeno Tutti Cioè Non Ci Sono E Lei Lo Sa Meglio Di Me Come Lo Sai Il Suo Direttore Sanitario Quindi Noi Vogliamo Dare A Lì O A Chi Svolgerà Il Suo Compito Per Il Presente O Per Il Futuro La Forza Per Poter Rappresentare Non In Una Situazione Di Sudditanza O Di Vassallaggio La Provincia Di Brindisi Sui Tavoli Regionali Ma Noi Vogliamo Dare A Lei Dottore Pasqualone La Forza Per Poter Ottenere Quello Che Spetta Alla Provincia Di Brindisi E Lei Deve Pretendere Che La Politica Di Questa Provincia Altrimenti Che Facessero Altro Se Non Sono In Grado Di Farlo Le Dia Una Mano Perché Dobbiamo Smetterla Di La Provincia Di Brindisi Lei Non Può Venire In Consiglio Che 2 7 Solo Un Parametro La Provincia Di Brindisi È Più Grande Della Bat Capito E Però La Provincia Di Brindisi Si Distingue Perché C'ha Il Doppio Dei Contagiati Di Quelli Che Ha La Provincia Di Taranto Che Ha Una Volta E Mezzo Degli Abitanti Della Provincia Di Brindisi Quindi Cerchiamo Di Distinguerci In Altre Graduatorie E Con Altri Meriti Non Con Quello Del Numero Dei Contagiati Ci Abbiamo Gli Stessi Della Provincia Di Lecce Che Ha Il Doppio Degli Abitanti Della Provincia Di Brindisi Quindi Per Piacere Cerchiamo Di Fare Qualcosa Visto E Considerato Che Lei Ha Detto Sempre In Quel Famoso Consiglio Comunale Che Il Presidente La Regione Vuole Bene A Ostuni E A Cuore Le Sorti Della Provincia Di Brindisi Bene Io Mi Auguro Che Come Sempre Nella Mia Vita Ho Apprezzato Cercando Di Dare Io Per Primo L'esempio Che Alle Parole Seguano I Fatti Altrimenti Quelle Parole Sa Come Si Traducono Dottore Pasqualone Presa Per I Fondelli E Le Ho Già Detto In Consiglio Comunale Che Io Al Club Di Quelli Che Si Fanno Prendere Per I Fondelli Nella Mia Vita Non Mi Sono Mai Iscritto E Non Voglio Cominciare A Questa Veneranda Età